Alla presentazione della Cittadella dello Sport, ieri mattina a Palazzo Borghi, l'assessore al bilancio Corrado Canziani ha voluto fare un plauso agli uffici tecnici del Comune per il grande lavoro portato avanti sino ad ora. Non posso esimermi dal fare un importante elogio agli uffici perché, come è noto, negli ultimi anni abbiamo portato nelle casse dell'amministrazione circa 40 milioni di euro, ma sono importi che in qualche modo devono essere, come si dice in gergo, portati a terra. E senza l'intervento e il grosso lavoro dei nostri uffici, questa importante attività non potrebbe essere fatta. Ma oltre ai ringraziamenti, l'assessore Canziani ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Siamo stati accusati nell'ultimo Consiglio Comunale di non avere visione. Oggi parliamo di sport, dal progetto possiamo vedere come la visione ci sia e quando faremo le nostre proposte anche per la seconda importante area oggetto di ristrutturazione che è il quartiere di Morigia, con il rifacimento della piscina e la costruzione del nuovo palazzetto dello sport, questa visione sarà ancora maggiormente delineata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.